Grazie Daniele e grazie a voi per avermi chiesto di entrare a far parte più direttamente dell'organizzazione, della vita del Festival. Purtroppo direi ne avrei fatto molto volentieri a meno perché l'anno scorso mi è toccato ricordare Tullio Gregory e quest'anno il Festival deve ricordare Remo Bodei. E anche questa mia conversazione gli è veramente dedicata perché chi di voi ha letto il suo ultimo libro vedrà quante cose ho tratto da quel testo, da quella ricerca davvero ritengo molto molto importante. Bene, macchine. Partiamo pure da qui. Cercherò di ripetere il meno possibile quanto ho già detto nel libretto che dà il titolo alla mia conferenza cioè il lavoro dello spirito che è una traduzione diciamo letterale di quello che di solito si del testo, dei testi, delle conferenze di Weber che avrebbero dovuto uscire sotto il titolo comune di Geistige Arbeit ma che poi vennero pubblicate separatamente la prima dedicata al lavoro scientifico la seconda al lavoro politico. Due conferenze che Weber tenne la prima nel 17 e la seconda nel 19 immaginatevi in quale situazione la prima nel pieno della guerra la seconda nel pieno di una rivoluzione perché quando Weber tiene la conferenza seconda del 19 a Monaco c'è la rivoluzione e non si sa che strada percorrerà la rivoluzione. Weber lo sapeva in qualche modo metteva in guardia i suoi studenti si rivolgeva proprio ai suoi studenti in particolare ai suoi studenti ricordando che se la politica non era beruf professione e cercheremo di parlare anche di questo si sarebbe preparata la più nera delle reazioni balate studenti che se la vostra rivoluzione non è improntata a responsabilità politica il che non vuol dire necessariamente non essere rivoluzionari ma se la vostra essere rivoluzionari non è beruf politico non è informata dall'idea di professione e di responsabilità voi preparerete la più nera delle reazioni e così accadde più o meno attraverso altri percorsi attraverso altri meandri ma però alla fine questo avvenne perché non ci fu una politica come professione in Germania negli anni venti come le intendeva Weber e Weber si dice morì disperato anche per questo c'era anche la spagnola certo c'erano tante altre epidemie ma l'epidemia peggiore era quella di una cattiva politica di una pessima politica questa era l'epidemia peggiore della Germania negli anni venti macchine la macchina non è uno strumento o un insieme di strumenti la macchina è una forma mentis il mondo moderno il mondo contemporaneo è il mondo della razionalizzazione sto parafrasando Weber e la razionalizzazione vuol dire che appunto la nostra vita tutte le forme della nostra vita tendono ad essere informate da modelli razionali tendono a funzionare per quanto possibile a essere regolate per quanto possibile eliminando per quanto possibile il caso la contingenza la macchina è questo certo può guastarsi ma sappiamo anche come aggiustarla possiamo migliorarla la macchina è un'idea la regolazione del nostro mondo in tutte le sue forme secondo modelli secondo cioè intelligenza razionalizzazione vuol dire intellettualizzazione la macchina è il prodotto di questa forma mentis tutto deve essere regolato per quanto possibile questo non vuol dire che tutto sarà perfettamente regolato ma tutto va orientato secondo questa idea ma per essere regolato va progettato bisogna progettarlo secondo modelli che sono modelli scientifici matematici non posso costruire una macchina a caso non posso costruire una macchina perché mi è stato perché è il mio mestiere la macchina è il prodotto di un progetto intellettuale e l'idea che regola la razionalizzazione è questa quindi occorre che vi sia un intelletto che progetta e che progetta la macchina anche la singola macchina all'interno di una idea generale che orienta ogni nostra attività che è quella appunto della razionalizzazione di tutte le forme della nostra vita Weber si muoveva in questa in questa prospettiva e riteneva semplicemente reazionaria ogni idea che volesse contraddire questa tendenza razionalizzazione voleva dire anche specializzazione non è più l'epoca del genio Leonardo che inventa o progetta per modo di dire macchine di ogni genere no il processo di razionalizzazione implica la specializzazione e quindi un'idea di culture un'idea umanistica ma anche rinascimentale di culture eccetera non aveva sarebbe stata all'epoca di Weber alla nostra epoca semplicemente reazionaria semplicemente reazionaria cioè non sarebbe stata effettuale non avrebbe potuto costituire una forza una potenza all'interno del processo di razionalizzazione non avrebbe agito sarebbe stata un elemento passivo all'interno di questo di questo processo ma che cosa produce tutto questo che cosa produce tutto questo una scienza lo produce la forza attiva il fattore fondamentale di questo sviluppo è il sapere ma non un sapere qualsiasi il sapere scientifico ma non una scienza qualsiasi la scienza propria del moderno contemporaneo preparata certo da tanti nel corso dell'umanesimo per certi versi da un genio leonardesco ma il salto è netto il salto è netto ed è l'irruzione all'interno di tutto questo del paradigma geometrico matematico come quello fondamentale l'unico che possa garantire appunto quel processo di razionalizzazione e la produzione di macchine nel senso che ho detto come parte integrante come fattore integrante di un sistema complessivo non questo o quello strumento allora il fattore fondamentale è certamente il sapere il sapere scientifico ma un sapere scientifico del tutto nuovo innovativo e tutti i grandi protagonisti sono perfettamente consapevoli della novità che rappresentano della straordinaria novità che rappresentano è un sapere che si allontana sempre di più dalla teoria diceva prima anche Daniele è un sapere che al suo interno immanente in sé anche il progetto pratico non è che ci sia il sapere dopo vi si appiccica sopra vediamo come lo si applica no il sapere matura in se stesso nasce in sé come anche rivolto alla prassi rivolto all'utilitas rivolto a informare dei suoi modelli dei suoi paradigmi tutte le forme della nostra vita questa è l'idea straordinaria della scienza moderna del sapere moderno questa ma questo sapere così intrinsecamente innovativo così intrinsecamente trasformante così intrinsecamente legato al sistema delle macchine che deve modificare la nostra vita e che si presenta come un paradigma che deve valere per tutte le forme della nostra vita questo sapere diciamo scienza e la filosofia appartiene integralmente a questo ambito è la coscienza di questa scienza che tipo di lavoro è ma è proprio l'esempio più eccellente del lavoro dello spirito che vuol dire vuol dire un lavoro dello spirito un lavoro che per sua natura non può essere comandato non può essere asservito non può essere dipendente libertas filosofandi perché per funzionare per essere attivo come pretende di essere agente non può essere sarebbe in contraddizione qualsiasi sua dimensione che fosse passiva quindi intrinsecamente si si presenta come modello e paradigma del lavoro che vale del lavoro che conta del lavoro effettuale del lavoro capace di trasformare la nostra vita ci si presenta un lavoro dello spirito libero incondizionato la sua idea regolativa è questa libertà significa incondizionatezza questo è l'idea regolativa questa è l'idea che orienta quindi si si presenta la scienza il sapere come il modello eccellente di un lavoro dello spirito che non vuol dire qualcosa di astratto anzi l'opposto cioè in qualche modo ci si allontana radicalmente dalla teoria e dall'ideale della teoria propria della scienza o della filosofia classica perché l'utilitas addirittura Bacone dice il nome della cosa è utilitas l'utilitas è uno scopo che questa scienza persegue cioè questa scienza si rivolge appunto alla alle altre forme di vita le vuole informare e vuole essere utile a loro quindi assolutamente il termine spirito va inteso in tutta la sua concretezza solo il lavoro dello spirito può concretamente contribuire appunto allo sviluppo anche del nostro benessere nel senso proprio classico del termine lo stare bene eudaimonia solo una scienza un lavoro dello spirito perché il lavoro dello spirito per la sua libertà e incondizionatezza può rivolgersi liberamente a questo scopo e a questo fine perseguirlo in libertà e cioè con la massima efficacia quindi il termine spirito in questa accezione è un termine concretissimo niente affatto astratto anzi l'opposto questo questa idea del significato del lavoro scientifico che proprio nella sua essere un particolare una particolare vocazione un particolare berrufe qui mi richiamo di nuovo a Weber no? qual è la vocazione dello scienziato di questo scienziato beh certamente vedere le cose come stanno la verità la verità liberamente cioè senza essere condizionato in questa ricerca da alcuno il mio interesse è quello ma la ricerca della verità significa ricerca delle leggi dell'accadere umano delle leggi della natura more matematico delle leggi della natura e soltanto la conoscenza e la comprensione di quelle leggi ti può servire può essere utile allo sviluppo di tutti al benessere comune solo la conoscenza la comprensione more matematico e questo vale non soltanto sul piano strettamente delle scienze fisiche delle scienze che noi diremmo dure ma vale anche sul piano è l'atteggiamento che hanno anche che hanno anche che ha anche la grande politologia la grande filosofia politica dell'epoca questo vediamo le regolarità vediamo le leggi studiamole ma il mio interesse è la verità non sono condizionato da nessuno cerco di non essere condizionato da nessuno per sé unicamente questo la verità questo è il mio beruf questa è la mia vocazione questo è il mio lavoro ma capite che è un lavoro che ha un significato molto diverso da quell'etimo che prima veniva richiamato e che risuona un po' in tutti i nostri idiomi che indica uno stato di caduta l'abor indica uno stato di caduta l'apsus sum no questo è l'opposto esatto è un lavoro che presenta tutta una dinamica un movimento se volete ascensionale verso lo spirito ma verso quello spirito che ci permette appunto di comprendere le leggi dell'accadere sia fisico che umano che ci permette di comprenderle di vederle sempre meglio di vedere sempre meglio la cosa la cosa e solo la cosa è il mio affare solo la cosa mi riguarda ma facendo così io sono utile a tutti proprio perché la mia vocazione è questa non mi astraggo anzi astraendomi da ogni altro interesse che non sia la ricerca della verità proprio attraverso questo movimento io sono massimamente effettuale nei confronti di tutte le forme di vita e le sostengo e le promuovo questa è la grande idea questo è il vero idealismo questo è il vero idealismo il significato vero dell'idealismo è questo l'idea muove tutto questo è il significato il significato dell'idealismo è questo il fattore fondamentale del mondo contemporaneo del mondo moderno e contemporaneo è il sapere scientifico questo è il fattore fondamentale questo è il produttivo questo è il produttivo la massima espressione dell'intelligenza umana quella che ci conduce a conoscere le leggi della natura eccetera la massima espressione è ciò che è massimamente produttivo è quella teoria che si lega alla frassi che si esprime nelle macchine nel sistema delle macchine non in questo o in quell'altro strumento e questa idea risulta la coscienza di questa scienza è secondo me il vero modo in cui si devono leggere anche i grandi classici dell'idealismo in particolare quello che io ritengo sempre di più essere veramente il fondamento che è Fichte la scienza ricordate come chiamano i loro sistemi tutti Wissenschaftslehre dottrina della scienza non filosofilere dottrina della scienza i principi fondamentali di che cosa della Wissenschaft della scienza Hegel nella fenomenologia basta con questo nome di amanti filosofia cosa è questo nome di amanti noi sappiamo noi siamo coloro che sanno Wissenschaft e la figura ultima della fenomenologia è il sapere scientifico un sapere scientifico assoluto lui dice assoluto c'era alla sua epoca no era l'idea regolativa qual era il sapere scientifico assoluto la liberazione del nostro lavoro chiamiamolo così da ogni condizionatezza esterna l'incondizionato ma la scienza nasce con questa idea la scienza moderna l'incondizionato cosa sarà il sapere assoluto quel sapere che ci permetterà di non dipendere da nulla di esterno come facciamo a non dipendere da nulla di esterno quando riusciremo a ricreare la natura è molto semplice soltanto allora c'è il sapere si darà il sapere assoluto cioè il sapere il sapere che non ha nulla fuori di sé che produce tutto da sé sono idee folli ma a me pare che la scienza vada questa è la prospettiva che persegue consapevoli inconsapevoli che ne sono e dice Fichte come la rivoluzione francese ci ha liberato da ogni autorità fuori di noi non riconosciamo nessuna autorità che non sia quella autorità che noi riconosciamo nessuna autorità imposta la rivoluzione francese ci ha liberato appunto da ogni idea di un'autorità che ci sia imposta di una legge che non sia la legge della nostra libertà la legge che la nostra libertà ha voluto è così appunto Kant ci ha liberato dalla cosa in sé cioè dal fatto dall'idea che c'è una natura da cui dipendiamo che non c'è soltanto la cosa che noi riusciamo a manipolare a trasformare eccetera ma c'è una 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 sostanza della cosa appunto che sempre ci sfuggirà che non riusciremo mai a comprendere a definire che magari riusciremo a pensare appunto ma non a definire non a determinare non a predicare ce l'ha liberato ma non perfettamente per gli idealisti e quindi vabbè questo è un discorso diciamo di storia della filosofia ma l'idea fondamentale è questa è fortissima ma che cosa che cos'è dove si pone il problema a questo punto il problema politico e da qui il rapporto con l'altra dimensione del lavoro dello spirito del lavoro intellettuale che dir si voglia è analizzato da Max Weber cioè la politica nel sistema della scienza in questo sistema della scienza mancava completamente la dimensione politica in realtà mancava completamente e cioè si ragionava come se questo sistema della scienza quasi naturalmente dovesse produrre un sistema della libertà il sistema della scienza paradigma di un lavoro completamente libero e al limite incondizionato questo sistema della scienza attraverso la forza stessa della sua presenza e il successo appunto dei suoi dei suoi prodotti dovesse iniziare e condurre verso appunto un sistema generale della libertà la scienza in quanto tale produceva come proprio effetto sociale politico appunto la liberazione da ogni forma di lavoro comandato di oppressione di lavoro dipendente di lavoro alienato si dirà a un certo momento eccetera la politica la dimensione politica questa era l'idea la dimensione politica si sarebbe accompagnata a questo processo e in realtà all'inizio se ci pensiamo bene fine 600 prima di 700 poteva anche apparire così no i grandi stati europei promuovevano favorivano si accompagnavano in qualche modo allo sviluppo stesso della scienza le grandi accademie vi era questa forte partecipazione politica al lavoro della scienza vi era non una simbiosi ma vi era certamente una affinità la politica comprendeva la straordinaria potenza del lavoro della mente e comprendeva che il fattore fondamentale anche del suo successo poi alla fine uno dei fattori fondamentali forse il fattore fondamentale era quello la competizione si svolgeva anche su questo piano come poi ha continuato a svolgersi ma qui c'era l'illusione no? qui c'era l'illusione qui c'era l'illusione che viene che possiamo vedere anche in quella frase di Leibniz che Bodei cita nel suo libro e che dà che ci dà l'impressione netta di quello che ho appena detto cioè di quella che era l'idea regolativa la speranza pratica anche di questa di questa scienza moderna di questa coscienza della scienza moderna quando Leibniz dice indignum est eccellentium virorum oras servili calculandi labore perire è indegno di uomini eccellenti ma siamo eccellenti tutti noi uomini l'uomo è eccellente tra gli animali non c'è niente da fare quali uomini tutti noi siamo uomini eccellenti siamo un genere eccellente sono noi dotati di logos no comunque vogliate tradurre il termine logos quindi tutti noi è indegno di questo eccellente genere che siamo è indegno passare il tempo passare le ore servili labore calcolando nel servile lavoro lavoro proprio di calcolare di amministrare di ripetere le cose la scienza deve liberarci da questo servile lavoro la scienza libera da questo servile lavoro vedete la finalità pratica del matematico Leibniz come è chiara come è evidente questa coscienza che il suo lavoro di matematico che il suo lavoro di filosofo serviva a liberare quel genere eccellente di animali che siamo dal passare la vita a fare le somme a fare le addizioni ad amministrare ma qui c'era anche l'illusione qui c'era anche l'illusione e cioè che bastasse la potenza la forza della mente per realizzare questo scopo e perché era un'illusione che non poteva essere prevista da questi primi grandi interpreti del significato della del lavoro scientifico perché perché era necessario che per funzionare questo lavoro dello spirito dovesse combinare la sua libertà a qualcosa che con la sua libertà era destinato ad entrare anche in contraddizione perché per funzionare questo sistema della scienza sistema della scienza proprio in quanto sistema e beh era necessario era inevitabile che si incardinasse che si incardinasse nel sistema economico doveva mantenere la sua libertà pena il cessare di funzionare perché se io rendo coatto questo lavoro dello spirito quello spirito cessa di funzionare ma nello stesso tempo per farlo funzionare doveva integrarsi nel sistema economico perché sempre più perché sempre più era il sistema nazionale e poi continentale e poi planetario della scienza non avrebbe potuto non poteva funzionare senza grandi risorse economiche senza diventare parte integrante del sistema economico e del suo sviluppo questo aspetto non era cosciente all'inizio della scienza moderna e non era cosciente neanche negli idealisti neanche nei fichte neanche negli Hegel era cosciente questa contraddizione è una contraddizione è una contraddizione che bisogna vedere come è possibile affrontare ma è una contraddizione bisogna tenere bisogna tenere da entrambi i poli se ne mollo uno la scienza e la produttività del sapere scientifico cessano bisogna garantire quella incondizionatezza di cui ho parlato ma quella incondizionatezza va collocata e integrata all'interno di un sistema di sviluppo economico in un processo economico questo gli idealisti non l'avevano idealisti nel senso nell'accezione che ho dato al termine che non ha nulla a che vedere con l'idealismo di cui si chiacchiera questa coscienza mancava mancava l'esaltazione del beruf scientifico del lavoro scientifico come beruf come vera autentica vocazione a cui dobbiamo dedicare tutti noi stessi senza distrazione alcuna proprio beruf berufung no? e nel termine tedesco è evidente l'affinità anche con la vocazione di tipo religioso proprio una vocazione religiosa una delizione alla causa e questa accezione così alta così eroica così nobile chiamatela come volete copriva la contraddizione di cui ho detto la copriva chi la smaschera? e beh i critici dell'idealismo i primi critici dell'idealismo Marx tu Hegel fai andare il mondo sulla testa aveva ragione e torto insieme aveva ragione perché? perché nell'idealismo il sistema della scienza diventava dialetticamente la dialettica diventava dialetticamente il sistema della libertà quindi aveva ragione tu fai andare il mondo sulla testa perché non è così non è che il sistema della scienza idea diventi per forza propria sistema della libertà ma aveva anche ma aveva anche torto sotto certi aspetti perché appunto per per Hegel come per gli idealisti quella scienza quel sistema della scienza era visto come la potenza fondamentale che muoveva il mondo contemporaneo nelle sue nelle sue nei suoi aspetti materiali non era una potenza spirituale ma era proprio quello spirito spirito che anima spiritus che anima ogni forma della vita contemporanea quindi Marx aveva ragione ma aveva anche torto perché appunto o meglio fingeva di non aver capito bene Hegel da questo punto di vista in realtà l'aveva capito perfettamente perché se uno vi è che esalta la potenza creatrice della scienza 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 prassi scienza tecnica indissolubilmente legate nel mondo per questo è Marx ma Marx ha ragione a dire non c'è nessun automatismo non c'è nessuna dialettica non c'è nessuna dialettica armonizzante tra queste due dimensioni qui viene un salto qui interviene un altro fattore un altro soggetto se vogliamo che la potenza del cervello sociale come lui dice cioè la scienza planetariamente organizzata diventi sistema della libertà cioè una forza che libera tutti e qui c'è un passaggio che non è un passaggio dialettico armonizzante ma per Marx è un passaggio rivoluzionario e comunque vi è un passaggio politico perché le due dimensioni possano come dire compararsi è necessario un passaggio politico cioè è necessaria un'altra forma di lavoro dello spirito la politica un'altra forma di lavoro dello spirito e Marx ha perfettamente ragione nella critica Hegel ma Hegel che pasticcio mi fai no ha ragione cioè in effetti è un'impressione che uno che legga in questa chiave tutta realistica la grande filosofia contemporanea avverte immediatamente l'abisso che intercorre tra quel sapere assoluto e quell'idea di sapere assoluto che conclude la fenomenologia e le parti della filosofia del diritto che riguardano l'organizzazione dello Stato Marx ha buon gioco a mettere a criticare la filosofia del diritto di Hegel ma che cosa dici che quello Stato è lo Stato che riuscirebbe appunto a sostenere nella sua finalità ultima il sapere scientifico il sapere dello spirito scientifico quello Stato lì quella miseria di Stato lì quella miseria di idea di Stato lì dovrebbe essere appunto la dimora di quel sapere assoluto che tu mi hai raccontato nella fenomenologia ma c'è un salto c'è una visita c'è proprio una 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 differenza proprio di timbro radicale no allora hai ragione no qui c'è qualcosa che non può essere una semplice mediazione dialettica che non può essere nessuna organizzazione politica così presente deve esserci qualcosa tra scienza e la dimensione politica che permette di proporre che permette di rendere reale la possibilità di un sistema della libertà e questo è il problema che Weber si pone quando affronta il lavoro politico come Beruff non nei termini così netti in cui ve la sto ponendo io ma secondo me è possibile dal discorso Weberiano che adesso riassumo trarre una prospettiva simile o analoga a quella che io ho tratto nel libretto e cerco ora di comunicarvi politica come professione bene prima di tutto il discorso sulla politica in quanto tale no diciamo mettendo tra parentesi il suo che è quello che veramente invece è il problema rapporto con quanto ho detto finora cioè con la scienza perché questo è il problema è evidente anche a leggere Weber non si tratta di dire adesso vi racconto che cos'è la vocazione scientifica ora vi racconto cos'è la vocazione politica e buongiorno no il problema di Weber è la relazione tra queste due dimensioni questo è il problema questo è il problema che dobbiamo affrontare a partire da quelle sue pagine allora comunque politica come professione se è professione deve confrontarsi immediatamente con la realtà del mondo contemporaneo non ci può essere una politica cultur una vaga cultur politica questo è il romanticismo avrebbe detto lui anche quel suo allievo maledetto che era Schmidt questo sarebbe romanticismo non può essere questo quindi deve essere professione la politica non ritenere di essere come dire una specie di 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 agire universale per l'universale senza specificazioni no deve essere deve essere adeguata nella sua forma a ciò che contraddistingue il mondo moderno cioè organizzazione 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 pianificata nessuna potenza nel mondo contemporaneo può reggere così tutto ciò che può tutto ciò che svolge un potere nel mondo contemporaneo è organizzato il resto è movimentismo romanticismo non ci può essere una potenza politica nel mondo contemporaneo che non che non sia informata con gli stessi principi che hanno informato il sapere scientifico che informano lo sviluppo economico questa è la regola generale senza di cui non si dà politica o meglio si dà politica dell'impotenza perché tutto ciò che nel mondo contemporaneo non tenta non cerca di organizzarsi così cioè di organizzarsi è impotente prima lezione di realismo secondo distingui bene perché tu politico la tua professione la tua vocazione politica non può essere non spacciarmela come qualcosa che sia imparentabile alla vocazione scientifica perché c'è una differenza di principio tu politico non sei chiamato a vedere le cose come stanno diciamo la brevita no tu sei chiamato a modificarle e a modificarle sulla base di una tua idea sulla base di un tuo progetto tu non sei chiamato ad amministrare l'esistente tu sei chiamato a condurre verso un fine e c'è niente da fare la politica è questo la politica sta nell'ambito del dover essere non dell'essere ma significa che non ha a che fare con l'essere ma neanche un po' perché quel dover essere deve fondarsi sull'analisi dell'essere sulla più realistica di queste analisi perché se no diventa illusions politica se no diventa politica delle illusioni se io indico un progetto a prescindere dalle condizioni di partenza la mia è illusione la mia è promessa la mia chiacchiera la mia frase quindi sì la tua il tuo beruf non è certamente quello dello scienziato ma anche a che fare con quello dello scienziato sia perché devi darti un'organizzazione e sia perché devi fondarti su un'analisi realistica delle cose perché altrimenti appunto tu non potrai mai dare al tuo progetto il tuo non sarà un progetto nel senso tecnico del termine nel senso che il progetto nasce con la scienza moderna che è progetto però non basta perché nell'indicare il fine nell'indicare quello diciamolo un po' enfaticamente che dovrebbe riguardare il dover essere cui il politico si muove è necessario anche l'indicazione l'indicazione calcolabile del percorso che devi compiere non puoi dirmi semplicemente vado lì sì capisco che non mi non mi dici di andare su Saturno su Giove capisco che è qualcosa che è che attiene diciamo vagamente al possibile ma non mi basta tu devi indicarmi anche il percorso attraverso quali passi intendi giungere quel fine e mi devi anche dire se questo percorso diciamo così devi anche indicarmi l'economicità di questo percorso bisogna essere estremamente bisogna pretendere tantissimo dalla responsabilità politica cioè dalla capacità politica di dare risposte ai nostri problemi bisogna porgli tutte queste domande il politico è responsabile se a queste domande sta a dare risposte adeguate coerenti razionali razionali perché tutto ciò che nel mondo contemporaneo non ha non è così informato razionalmente e così organizzato è impotente non è che lo critichiamo perché non ci piace o altro lo critichiamo secondo i suoi stessi principi tu fai politica tu vuoi potere bene se non ti muovi così che potere vuoi avere quindi sei in contraddizione con i tuoi stessi principi invece di potere vuoi impotenza impotenza rispetto a che cosa ma qui è chiarissimo Weber impotenza rispetto alle potenze comunque fondamentali dell'epoca che tu politico devi riconoscere perché sennò saresti totalmente nella irrealista saresti totalmente irrealista quali sono le potenze fondamentali dell'epoca la scienza la scienza la scienza nella sua organizzazione planetaria la scienza che ormai è la scienza del mondo del globo non ce ne sono altre c'è solo quella che è nata qui in questo continente 4-5 secoli fa la scienza è l'economia è l'economia certo la scienza è l'economia nel loro integrarsi perché adesso appunto questo è il problema si sono integrate non è possibile allo sviluppo economico esistere senza la potenza del cervello sociale che lo muove e non è possibile al cervello sociale esistere senza integrarsi nella potenza dell'economico questa è la situazione che ha di fronte Weber non ne parla direttamente affronta i due temi separatamente ma è troppo semplice vedere che il suo dramma è questo rapporto e dall'altra parte il politico cancelliamo le illusioni di un sistema della scienza che diventa sistema della libertà perché perché c'è l'economico dentro cui questo si è integrato e l'economico non persegue è inutile accusarlo voi studenti rivoluzionari chi accusate il sistema economico di non perseguire il sistema della libertà ma chi vi ha raccontato che era nato per perseguire il sistema della libertà la scienza aveva questa idea sua regolativa come abbiamo letto prima dalla citazione di Leibniz la scienza ma non certo il sistema economico il sistema economico ha altre finalità ha un'altra razionalità quindi cosa è stata ad accusare il problema è la politica il problema è la politica se non c'è una forma politica che riesca attraverso la sua azione a combinare la potenza del cervello sociale che libera per sua natura dal lavoro necessario ma non riesce a far valere questa forza e questa potenza nella sua relativa autonomia nei confronti della potenza economica il sistema della libertà non è non è non è realizzabile perché la potenza economica non ha come fine quello che potrebbe avere se ne fosse cosciente se ne riuscisse riuscisse a ricordare la propria stessa origine il sistema della scienza allora il dramma si dispone secondo queste figure il dramma si dispone secondo queste figure il sistema della scienza di cui abbiamo parlato ma che nel suo integrarsi al sistema economico diciamola ricorda sempre meno questo fine originario che c'era che parlava nei grandi razionalisti nei grandi idealisti questo fine originario per Weber corre il rischio di dimenticarselo in toto ma non per propria colta perché non è la scienza che può produrre il sistema della libertà e neanche il sistema economico è la politica che può mettere a frutto il produttivo per eccellenza che è la scienza che è il sapere al fine che è immanente alla stessa scienza ma che la scienza corre il rischio costantemente di dimenticare il sistema della libertà e cosa significa questo sistema è implicito in tutto quello che ho detto liberazione da ogni forma di lavoro dipendente liberazione da ogni forma di coazione al lavoro liberazione dal lavoro necessario la scienza produce questa riduzione di lavoro necessario riduce costantemente il lavoro necessario ma non produce il sistema della libertà produrrà disoccupazione non produce liberazione ma produce disoccupazione o produce tempo libero ma che roba è il tempo libero io non voglio tempo libero libero da che? io voglio tempo attivo la mia libertà consiste nell'essere attivo non nell'essere estrettamente libero nel poter fare ciò che ritengo essere espressione della mia creatività non me ne faccio nulla del tempo libero è il negativo è semplicemente il negativo del lavoro dipendente del lavoro occupato la scienza prometteva questo prometteva che ogni forma del lavoro diventasse il lavoro dello spirito questo perché perché non può essere il lavoro dello spirito ogni nostra attività l'attività di ciascuno di noi perché non può essere il lavoro dello spirito questo il lavoro dello spirito è il lavoro non comandato non dipendente non condizionato da fattori esterni che io non abbia riconosciuto la scienza di per sé libera soltanto dal lavoro necessario ma non conduce a un fine non procede verso un fine di questo genere ecco dove sta il lavoro politico il lavoro politico la vocazione politica non dovrebbe consistere in questo o deve semplicemente subordinarsi alla potenza economica e alla potenza scientifica no ma deve riconoscere la politica riconoscendo in pieno che il fattore fondamentale è la scienza il fattore fondamentale per me la scienza voi scienziati siete il fattore fondamentale nulla si muoverebbe senza il vostro lavoro senza il vostro beruf nulla si muoverebbe quello è quello è il motore di ogni innovazione quello è il motore di ogni trasformazione ma siete dentro un meccanismo economico certo allora vediamo politica lavoro politico e lavoro scientifico insieme vediamo come dobbiamo trattare con la potenza economica per procedere verso il sistema della libertà senza alleanza tra questi due fattori non si può procedere in quella direzione verso quel fine occorre alleanza occorre da parte della politica il riconoscimento pieno che lì è il fattore di sviluppo che soltanto attraverso lo sviluppo l'augmentum scienziarum come si diceva una volta sarà possibile creare le condizioni in base alle quali tutti noi si possa svolgere un'attività dello spirito cioè che corrisponde a noi che corrisponde alla nostra libertà perché è impossibile questo e chi lo dice e perché dovrebbe essere impossibile forse per la prima volta noi siamo invece nelle condizioni di poter dire che è possibile che sarebbe possibile ma senza nessun automatismo questo è il punto e allora implicitamente in Weber questo fine è indicato perché quando appunto tratta del rapporto tra le due dimensioni della Geistige Arbeit questo è il perno del suo del suo ragionamento a volte sottinteso ma il perno del suo ragionamento è questo è possibile creare una alleanza tra le due forme fondamentali del lavoro dello spirito è possibile è possibile che riconoscano un fine comune e attraverso questo riconoscimento entrino in conflitto certo Weber è un democratico e la democrazia è uno spazio di conflitti in conflitto con la potenza economica con le finalità proprie della potenza economica conflitto non vuol dire non necessariamente significa rivoluzioni in senso marxiano non necessariamente perché necessariamente significa può giungere a questo certo certo chi ha decretato che non ci saranno mai più rivoluzioni come chi ha decretato che non ci saranno mai più guerre eccetera eccetera sciocchi chiaro che la politica si affaccia sempre su questi su queste soglie estreme è evidente ma non necessariamente un'alleanza tra le due forme fondamentali di lavoro dello spirito potrebbe comportare un conflitto su posizioni di forza con quelle finalità che sono diverse della potenza economica delle potenze finanziarie economiche che hanno bisogno ma al loro interno e subordinandole alle proprie finalità della potenza del cervello sociale e il cervello sociale di per sé non potrà mai liberarsi da questa dipendenza se non ha il politico come alleato e il politico che non ha la scienza come alleato non conta niente non conta niente finirà necessariamente con l'amministrare i problemi delle potenze economico finanziarie ecco allora il dramma che secondo me si evince dalle pagine di Weber questo è il dramma che si evince una politica che è condannata all'impotenza se non è anche scienza una scienza che produce e produttiva a differenza della politica la politica è condannata è condannata proprio a liquidarsi e infatti domani qui mi pare proprio qui ascolterete una Alessandro Rezo che vi racconta del suo ultimo libro dove la politica ormai che cos'è in quanto tale non c'è la politica ci sono simbiosi sinergie simbiosi tra virgolette politici potenze economiche potenze finanziarie potenze tecniche questo questo sono gli apparati dirigenti queste sono le classi dirigenti degli imperi oggi queste sono e poi si semmai una politica come ornamento ma chi comanda sono questi apparati in cui la dimensione politica la dimensione tecnica la dimensione economico finanziaria sono assolutamente inscindibili così funzionano gli imperi e naturalmente nelle loro finalità non vi è tutto che quel sistema della libertà e quindi laddove si ridurrà lavoro necessario che cosa subentrerà subentrerà sussidio subentrerà assistenza subentrerà tutto quello che è l'opposto dell'affermazione del nostro essere attivo del nostro essere causa causa ma questa era l'idea del grande idealismo del grande razionalismo questa era l'idea un'idea di liberazione un'idea di scienza che libera di sapere che libera ma non libera senza politica non può liberare senza politica senza una politica che si strutturi come ho detto come ha detto Weber e che riguardi a differenza di quello che ha detto Weber era sostanzialmente disperato su questa prospettiva non c'è niente da fare salviamo una dimensione democratica l'attività politica ma che la politica contemporanea possa perseguire fini così virgolette rivoluzionari ma invece questi fini sono concretamente possibili sono una possibilità reale perché perché la scienza permette di pensarli permette di pensare un nostro essere attivo un essere attivo di ciascuno per cui ciò che attivamente ciascuno compie lo senta come lavoro del proprio spirito cioè riascoltiamo la la forza di questa parola no? non facciamo quei disincantati sulla cui figura concludo il mio libretto quei disincantati che a furia di essere disincantati sono incantati soltanto dal sistema di potere dalle strutture esistenti che il loro disincanto è incantato in quelle no disincanto sì realismo capire le contraddizioni capire i problemi ma poi se dobbiamo essere incantati incantiamoci da fini da fini che ci diano vita che ci diano forza e che siano insieme reali perché non è reale la scienza non è reale la sua enorme straordinaria produttività mai come oggi non è reale e allora perché non possiamo realizzare altrettanto un politico cosciente di questa forza è in grado insieme al lavoro al lavoro scientifico come professione come vocazione di confliggere con le finalità proprie del sistema economico finanziario confliggere competere io credo che questa sia una prospettiva possibile realmente realmente possibile quello che è certo è che al di fuori di questa prospettiva vi è una scienza potente ma dimentica totalmente di quella coscienza che ne aveva informato l'idea originaria nel moderno crisi delle scienze europee qui quella coscienza la coscienza cioè quella coscienza quella volontà che dominasse davvero ovunque in ogni lavoro in ogni dimensione della nostra vita il soggetto il soggetto fosse fossimo noi fosse l'io ma l'io noi perché ego cogito molti sono divertiti a farne una critica è evidente che quello è un noi fin da allora c'è bisogno dei contemporanei per spiegare le dimensioni di intersoggettività che è propria del soggetto dell'idea moderna di soggettività al di fuori della prospettiva che ho detto vi è appunto una scienza non cosciente di questo suo immanente fine che l'ha che l'ha contrassegnata fin dalla sua origine e l'origine sempre dicevano i latini la potissima pars e una politica che è amministrazione una politica che è amministrazione che amministra che cosa l'accordo di volta in volta al di là di ogni poi trasparenza o visibilità democratica come accade l'accordo tra sviluppo scientifico tecnico integrato nell'apparato nel sistema economico finanziario interessi del sistema economico finanziario e appunto quella politica che è puramente amministrazione questo è certo o c'è la prospettiva che io dico e questa viene perseguita come possibilità reale oppure dobbiamo disincantarci e incantarci nella venerazione dello stato di cose presenti come dice quel tale appunto come l'unica scelta che ci sia data che ci sia data è o stare nel carro dei vincitori oppure seguirlo in catene ecco terzium datur io credo di sì grazie grazie a tutti